Prima uscita. Outfit, vado a fare la spesa. Questo specchio sta così ancora perché deve venire l'ingegnere ad appendere le cose. Pantaloni, scarpe che vanno bene dappertutto, Nike. Non solo ho fatto la spesa, ma lui mi porta a casa e io vado qui. Sì, meraviglioso. Servizio a domicilio anche della Sottos. Bellissima. La prima spesa dopo il trasloco è una cosa eccezionale. Sono carina, ho scoperto la mia fruttivendola e è incinta. C'era questa pancetta, però non capivo. E oggi glielo ho chiesto al settimo mese, sta portando benissimo questa gravidanza. La mia spesa. Bellissima. E allora, è stata proprio una bella uscita, è vero? Questa è una bella uscita, è una bella uscita, è una bella uscita, è una bella uscita. Sottotando, ma che meraviglia. La sorella gli ha detto, portala piano, ma sei sicuro di voler andare con lui? Ho detto una cesta, sono abituata. E poi mi ha messo tutto in una cacola di proletterolo. Buonissimo. 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 Oh, loro fanno... Buonissimo. Siamo quasi arrivati. Ma perché è vicinissima lei. È veramente vicina. E quando non è... Poverino, sta andando piano piano. Si chiede. Ah, fu coia. Coi. Coi. Sta andando... Ah, doveva... La sta rimettendo in moto. La spingeva con... No. Eh, guardate che fa. Si chiede. Non è fatica. Per me è la stessa. Perché il momento che doveva far delivere è chiaro che ho fatto un po' di storia. Anche di scatolame. All'incrocio con la Iana Luz ho dovuto scendere perché mi ha fatto attraversare a piedi perché c'è la polizia. Adesso le regole sono molto rigide. E... E niente. E lui mi ha aspettato dopo l'incrocio. Madonna, si sta facendo delle gambe. Altro che squat. Spinge il motorino perché oggi è finita la batteria. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Sono già a casa mia. Sono già a casa mia. Mi spesa è qui. Io sono arrivata. sono e salva è allegra dai adesso mi tolgo le scarpe queste scarpe sono carine vanno bene con tutto sono secondo me i miei naples è difficile così ho avuto l'occhiale speriamo che non si sia fatto niente sono i colori neutri che vanno bene da per là ce l'ho fatta ormai vabbè la spesa l'ho scaricata ma è inutile che vi faccia vedere ah no c'è ancora qui vabbè ma insomma è già fatto ho trovato anche i finocchi oggi i finocchi che è una cosa e qui l'acqua di cocco perché cia sida lo faccio questo è mio il cia sida lo faccio sempre a mollare un po' lì adesso mi riposo un po' poi vi faccio una doccia e poi vediamo di preparare una cena un rosso c'è qua ma questa è la novità grazie a presto ciao ciao Grazie a tutti.